Scoperta a Cerenova, una casa d'appuntamenti blizza ieri pomeriggio delle forze dell'ordine grazie al lavoro congiunto dei carabinieri di Campodimare e della polizia locale di Cerveteri. Le indagini portate avanti dai militari del comando di Campodimare sono scaturite a seguito di alcune segnalazioni effettuate proprio dagli agenti della polizia locale di Cerveteri. Un sospetto via vai presso l'abitazione in una zona centrale della frazione infatti ha reso necessario l'avvio di controlli e accertamenti culminati nel sopralluogo congiunto delle due forze. Le indagini che hanno reso necessarie anche delle perquisizioni personali condotte dal personale femminile della polizia locale hanno permesso di accertare la presenza dell'attività illecita e di giungere all'arresto di una donna per sfruttamento della prostituzione denunciato a piedi libero. Inoltre il compagno di lei è accusato di favoreggiamento. Mi congratulo con il personale impegnato nelle attività di controllo ha commentato il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, a conferma della presenza delle forze dell'ordine nel nostro territorio. Una delle opere più importanti previste nelle linee programmatiche della giunta bacheca approvate la scorsa settimana in Consiglio Comunale è quella della nuova sede comunale. Sono tanti sindaci che si sono succeduti alla guida della città che avevano promesso nel loro mandato di realizzare un nuovo municipio e nessuno di loro però ha rispettato l'impegno. In base ad un progetto di massima redato dal vice sindaco Carlo Pisacane, questa potrebbe essere la volta buona. La cassa comunale verrebbe realizzata all'interno di un appezzamento di terreno di proprietà del comune in base alle esigenze previste potrebbe costare un massimo di 3 milioni di euro. A parlare di questa opportunità sono l'assessore all'attuazione del programma Carlo Pisacane e il delegato alla sede comunale Dario Vergati. D'accordo con l'architetto Raffaele Bronzolino e l'intera maggioranza dicono i due ci siamo messi a tavolino ed abbiamo disegnato un progetto per vedere se c'erano gli estremi per costruire il nuovo municipio nello stesso terreno dove ora è collocato il vecchio comune. L'obiettivo di questa maggioranza infatti è quello di riunire tutti gli uffici comunali attualmente sparsi in vari appartamenti della città in un'unica sede il che consentirebbe di risparmiare migliaia di euro che ora paghiamo in affitti che potrebbero essere utilizzati per pagare un mutuo per costruire il nuovo comune. Scritte ineggianti al fascismo sul muro del mercato coperto in via degli orti a Fiumicino brutto risveglio nei giorni scorsi per gli operatori del comune subito intervenuti per rimuovere le scritte mani ignote hanno infatti imbrattato di notte nei giorni scorsi il perimetro esterno della struttura anche questa volta come già avvenuto in precedenza sul muro di cinta del parco del Perugino a parco Leonardo ha dichiarato Angelo Carroccia assessore ai lavori pubblici di Fiumicino siamo intervenuti per rimuovere l'inesimo scempio che offende la nostra memoria storica era giusto riportare in breve tempo decoro e pulizia in un'area di grande passaggio a Fiumicino Maria Pia Mirati, Roberto Cotroneo, Andrea Carraro e Valerio Magrelli saranno i prestigiosi ospiti della nuova edizione di Incontri con l'autore il ciclo di appuntamenti letterari del premio Tarquigna Cardarelli che si svolgerà ogni sabato di novembre alle ore 17 Palazzo Bruschi Farga risiede della biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli via Umberto I numero 34 sarà quest'anno il suggestivo salotto della manifestazione ad alternarsi alla conduzione i critici Filippo Laporta e Raffaele Emanica sarà presente il direttore artistico del premio il critico Massimo Onofri Incontri con l'autore conferma il rapporto speciale con gli studenti delle scuole superiori che avranno la possibilità di conoscere e dialogare il sabato mattina con protagonisti della rassegna scrittrice e giornalista ammirati sarà il 9 novembre la prima ospite con il libro La danza del mondo Mondadori 2013 scelto per la recensione degli studenti degli istituti Vincenzo Cardarelli di Tarquigna e Carlo Alberto della Chiesa di Montefiascone un romanzo che riflette sulle diverse e contraddittorie declinazioni dell'amore scrittore e giornalista Cotroneo proporrà il 16 novembre Betty Bonpiani 2013 giallo d'autore con protagonista George Simenon giunto alla notorietà con il romanzo Il branco storia di uno stupro di gruppo Carraro parlerà il 23 novembre di Come Fratelli Barbera Editore traduttore e saggista Magrelli farà conoscere il 30 novembre Geologia di un padre incontri con l'autore una manifestazione organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Tarquigna con l'alto patronato della presidenza della Repubblica domani venerdì 8 novembre alle ore 17.30 nella sala convegni del polo culturale del comune di Tolfa in largo 25 marzo 1799 esiterà la presentazione del libro La città chiara del senatore Francesco Giro oltre all'autore parteciperanno all'evento promosso dall'onorevole Alessandro Batilocchio i sindaci di Tolfa Luigi Landi di Montalto di Castro Sergio Caci e di Santa Marinella Roberto Bacheca l'incontro verrà moderato dal giornalista Arturo Diaconale la scuola primaria di Montalto di Castro ha ora il suo impianto fotovoltaico questa mattina i tecnici della ditta nuova Tomaselli di Acqua Pendente e quelli dell'Enel hanno attivato l'impianto con una potenza complessiva di 7 kW che andrà a coprire l'80% del fabbisogno energetico della struttura scolastica finalmente abbiamo sanato uno spreco di denaro pubblico che persisteva da 6 anni ha detto l'assessore ai lavori pubblici Matteo Carmignani questo è il secondo impianto che viene installato sui tetti degli edifici pubblici di Montalto e per questo dobbiamo ringraziare la provincia di Viterbo per la fattiva collaborazione per risolvere il problema con questa opera andiamo a tutelare ancora di più l'ambiente nell'ottica di un risparmio economico dell'ente comunale adesso un'altra pausa per lo sport adesso un'altra pausa per lo sport